Una soluzione derivata dal sangue della renicola, un comune verme marino, verrà testata su un gruppo di pazienti infetti da Covid-19 in Francia. Il prodotto è già utilizzato nell'ossigenazione di organi per trapianti ed in pazienti con ipossia cerebrale. La renicola resiste ad una grande varietà di fattori fisico-chimici. Respira solo quando è nel mare e quando è nella sabbia smette di respirare per sei ore. La ricerca ci ha fatto identificare la molecola che funziona da serbatoio d'ossigeno e che gli consente di trattenerlo per sei ore fino alla successiva alta marea. Ovunque nel mondo lo sforzo di scienziati e ricercatori punta a definire un trattamento efficace contro il virus. Una delle ipotesi promettenti passa attraverso lo studio del plasma sanguigno dei pazienti guariti dal Covid-19 e dai meccanismi di produzione degli anticorpi. Un'unica donazione di plasma che otteniamo con un procedimento di aferesi può contenere abbastanza plasma per due, tre ma anche quattro unità. Quindi un donatore convalescente potrebbe effettivamente aiutare a curare fino a quattro pazienti. La plasma terapia viene sperimentata da qualche giorno anche in Italia, alla Policlinico di Pavia.